Content is king vale ancora oppure no? Content is king certamente vale ancora, d'altro canto un contenitore senza contenuto ha poco significato. Detto questo, forse molto spesso noi all'accezione di content associamo troppe cose, per cui il contenuto non è tutto uguale. Se all'interno del contenuto noi parliamo di diritti che può valere anche per il mondo dello sport o librerie, allora sono meno d'accordo perché l'acquisto di diritti è solo un gioco quasi commodity che alla fine andrà agli operatori che avranno televisivi o non, che avranno le tasche più profonde e che non costruisce né un vantaggio competitivo duraturo nel tempo né competenze distintive. Se invece parliamo della capacità di ritornare un po' all'origine della televisione e di focalizzarsi sul concetto di autoprodotto perché poi non dimentichiamoci che la televisione nasce con l'autoprodotto e che soprattutto in Italia abbiamo avuto delle eccellenze negli anni sia di autori che di registi che di scenografi che di coreografi, allora sì il contenuto è king. Però significa ritornare a costruire delle competenze, a investire in infrastrutture che siano molto vicine alla produzione e che facciano della produzione un elemento fondante della missione di un editore televisivo. Cosa devono fare i broadcaster tradizionali per rispondere alla minaccia di Netflix & Co.? Sicuramente evitare una concorrenza sulla componente distributiva, la distribuzione dei contenuti video sarà sempre più in mano alle grosse piattaforme che si chiamino YouTube, Netflix, Amazon e non dimenticherei la Cina con Alibaba. Per cui la distribuzione è un gioco molto complicato. Però come dicevo prima il concetto di local diventerà molto più importante dove local ha un'accezione all'interno di un panorama globale, ha un'accezione nazionale. Il concetto di rimanere vicino a un linguaggio e a delle capacità produttive locali molto forti rimane altresì importante. Il concetto di provare a innovare sui formati televisivi diventa molto importante. Quello che i broadcaster un po' hanno perso nel tempo è perché c'è sempre un elemento di rischio, è la capacità di innovare. Produrre un contenuto da zero, produrre un episodio zero ha dei rischi elevati, ma andare in onda un contenuto che è stato già testato da qualche altra parte, che viene acquisito, ha dei rischi molto diversi. Per cui tornare un po' al concetto imprenditoriale della televisione, in cui si rischia anche che il contenuto non piace, ma il contenuto io lo curo, nessuno è l'autore, lo dirigo, lo produco, diventerà una delle armi vincenti dei broadcaster nazionali. L'ultima cosa era molto interessante questo concetto di contenuto atomico che potrebbe in qualche modo soppiantare la vecchia modo di vedere la televisione per canali televisivi. Ce lo puoi spiegare un po' meglio? Sì, perché noi spesso ci chiediamo se la televisione è morta o morirà e un po' secondo me la domanda è fuorviante. Non è una questione se la televisione muore, dubito che muoio. Io sono un grande fan della televisione lineare e secondo me la televisione lineare avrà ancora un grande ruolo in futuro. Il concetto che andrà un po' a scomparire è il concetto invece di palinsesto. La nostra generazione, la mia generazione è cresciuta demandando a dei canali televisivi delle scelte editoriali. Tanto voglio dire, sapevo quello che trovavo su canale 5 perché canale 5 era un canale fatto in una certa maniera, sapevo quello che trovavo su Rai 1 o su Rai 3 che aveva degli indici di affinità molto elevati. Le nuove generazioni non ragionano o non hanno nessuna affinità nei confronti dei brand, dei canali televisivi. Se tu chiedi ai millennial su che canale viene mandata una delle grosse famose serie televisive americane non lo sanno. Per cui il brand o l'affinità o la fedelità del telespettatore sarà sempre più nei confronti del contenuto atomico, della specifica serie, della specifica produzione più che un'affinità verso il contenitore. E questo secondo me richiede che i broccassi facciano delle riflessioni su quello che sarà il palinsesto del futuro, se esisterà un palinsesto del futuro, che non vuol dire che il contenuto atomico non rimanga un contenuto di assoluta importanza. Grazie.